La sperimentazione delle misure di riapertura della fase 2 deve durare per un arco di tempo di almeno 14 giorni e deve essere accompagnata al monitoraggio dell'impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità del SARS-CoV-2, lo dice la relazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel documento si sottolinea come sia evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto e si suggerisce un approccio a passi progressivi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via all'app Immuni. La piattaforma sarà istituita dal Ministero della Salute e sarà realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico. I dati raccolti verranno cancellati entro il 31 dicembre 2020. Nessuna limitazione per chi non userà l'app. Non saranno consentite le geolocalizzazioni, ci sarà solo la raccolta dei dati necessari a far fronte al contagio da Cov-19, tutela della privacy e informazioni chiare agli utenti. Il solo fine è rintracciare le persone che siano state in contatto con soggetti i risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell'ambito della sanità pubblica legata all'emergenza. L'applicazione potrà essere scaricata su base volontaria. Il Governo sta studiando un intervento per escludere dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico i maggiori spazi occupati per rispettare le misure di distanziamento sociale, lo ha affermato il ministro Roberto Gualtieri. Ragioniamo anche su un credito d'imposto aggiuntivo per sostenere questo tipo di investimenti in particolare da alberghi, ristoranti e bar. Inoltre ci sarà un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi d'affitto di tutte le imprese di qualsiasi natura e dimensioni che abbiano subito un calo del fatturato. Contrarre il Covid-19 sul proprio posto di lavoro non sarà considerato malattia ma un infortunio. Lo ha precisato il presidente dell'INA, il Franco Bettoni. Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio. Se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta, sarà considerata a tutti gli effetti, ha concluso Bettoni, una vittima sul lavoro.